Bentornati a ZoomIn, bentornato all'ospite di oggi. Il senatore Antonio Razzi, ben trovato senatore, oggi trattiamo un argomento delicato e scottante, non è che finiamo da crozza, qui sicuro perché parleremo della proposta di legge che poi ha avuto un risalto nazionale perché è giusto che sia così, ma è collegata anche ad altre iniziative, è una proposta di legge che il senatore Razzi ha presentato o presenterà. No, già è presentata. E già è presentata. Riguardo, lo capirete anche dal titolo, alla riapertura delle case chiuse. Ma vedi, io già l'ho fatto dal 2006. Una delle prime volte che io sono andato a Roma, venendo dalla Svizzera, sulla sala io vedevo un macello di donne in costume, è una cosa proprio scantalosa. E da lì... E aveva pensato, qui c'è il mare? Eh sì, veramente, ma che stanno tutti in bichini, ma che stanno lo mare qua? Insomma, mi sembrava una cosa scandalosa. Allora da lì, dopo mi sono informato che in Italia non ci sono le case chiuse, in Svizzera dove vengo io ci sono da tanti anni e mi sembra una cosa pulita. Beh, quindi in Italia c'è la legge Merlin ancora in vigore. Ma non è una cosa scandalosa, perché il mestiere più vecchio del mondo è la prostituzione. È sempre esistito. Io sono stato l'anno scorso a Pompei, addirittura a Pompei ci vede le strade proprio scritte dove troveranno le donne per fare sesso. Mi sembra una cosa che è una cosa normalissima. No, ma poi c'è anche una situazione di emergenza sanitaria e poi ci sono anche altri problemi, per esempio quella dell'evasione fiscale, no? Perché lo sfruttamento, che è un reato, perché non è il reato prostituirsi, ma il reato è lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione. Con queste ragazze in mano ai racket che sfruttano il loro lavoro, fra virgolette, e favorendo ovviamente un introito di denaro a vantaggio della malavita. Cosa prevede la sua proposta di legge? Ma innanzitutto, come dicevi, caro direttore, salvaguardare le donne, perché dietro di loro ci sono quelli che la sfruttano. Ci sono ragazze che vengono dall'estero, che vengono dal Brasile, eccetera, eccetera. Magari gli promettono lavoro in un bar, lavoro in un hotel o addirittura in un ufficio, eccetera, eccetera. Poi ad alcuni viene sequestrato il passaporto e lo buttano in strada. Sono ragazze che non vorrebbero fare quel mestiere, però lo devono fare perché dietro di loro ci sono i famosi, come si diceva una volta, i magnacci. Questo ovviamente è la migliore delle ipotesi, perché molte di queste ragazze poi, per costringerle a prostituirsi, vengono picchiate, seviziate, violentate. Ma infatti, prima che io facessi la proposta di legge, ho parlato con queste ragazze anche per sapere, ed infatti, come dicevi, vengono picchiati se non riportano una certa cifra. Sì, gli sono dei budget da raggiungere, usiamo un termine aziendale. Poi, diciamo, alcuni si vedeva proprio che l'avevano picchiato. Io penso che questa proposta di legge serve anche, non solo per le ragazze, ma anche per gli uomini che ci vanno, perché vengono controllati, vengono certificato sanitario, perché deve essere così. Quindi ci vanno tutti, specialmente quelli sposati, e non che magari vanno e poi portano la malattia a casa a sua moglie o ad altre. Questa è una proposta di legge, come dicevi prima, anche per l'esportazione di valuta. Io, come ho messo nella mia proposta, le prime esportazioni di valuta è il sesso che uno va fuori dall'Italia. In Svizzera, dove ho vissuto per 41 anni, in quei locali dove, passeggiando, si vedeva solo, quasi, macchine italiane. E credo che gli euro che andavano in Svizzera, o in Austria, o in Germania, o in Spagna, ma in tutte le parti d'Europa... In Olanda. In Olanda, non ne parliamo, sono anche in vetrine esposte le ragazze. Diciamo, una delle più grandi esportazioni di valuta è gli italiani che vanno fuori e lasciano i soldi lì. A corredo di questa proposta di legge fatta dal senatore Antonio Razzi, c'è anche in atto, in questo momento, una raccolta di firme promossa dalla Lega Nord è appoggiata anche da alcuni esponenti, alcune trans famose in Italia che hanno appoggiato questa raccolta di firme per un referendum proprio per abolire la legge Merlin, quindi per favorire la riapertura delle case chiuse, perché? Perché, secondo la Lega, sarebbe ora di far pagare le tasse alle prostitute. Mi sembra giusto, io... Ci sono delle escort che guadagnano, e questo è certificato, escort non le auto, ma le escort, che guadagnano centinaia di migliaia di euro al mese, non ci pagano le tasse. E sono al netto, e allora anche noi, diciamo, lo Stato deve, oltre a salvaguardare igienicamente la salute, eccetera, eccetera, ma diciamo anche le tasse, le tasse, un'entrata. Le agenzie dell'entrata sicuramente saranno felici di avere questi soldi che, diciamo, sono soldi che in anni, da 54 anni mi sembra, non è mai entrato. Oggi potrebbe, passando quella proposta di legge, potrebbe rientrare alle agenzie dell'entrata. Ma secondo lei perché il Parlamento in questi anni non ha mai preso in considerazione l'abolizione della legge Merlin? Forse l'Italia ha ancora uno Stato legato a una politica legata a determinati valori, a determinate situazioni, la presenza del Vaticano in Italia può condizionare questo? Sì, io penso che, ripeto, io dal 2006 e dalla quindicesima legislatura dove ho preparato questa proposta di legge, che poi non mi è mai stato, l'ho depositato però non alla Camera, però non divulgato per la raccolta delle firme, perché appunto i miei ex non volevano, eccetera, eccetera, perché la Chiesa, adesso con il Papa Francesco sembra molto aperto anche su quanto riguarda le coppie di fatto, per quanto riguarda la comunione ai divorziati, mi sembra una rivoluzione e su questo potrebbe essere anche da parte del, non sarà ufficialmente da parte della Chiesa, ma penso che anche la Chiesa sarà uno dei primi anche a dire, anche sì a questa... A proposito di Papa Francesco, è vero che lei la scorsa settimana è stata ammessa a Santa Marta la mattina presto da Papa Francesco? Sì, alle sette la mattina, non a Santa Marta, è stato fatto lì a San Pietro. Era una celebrazione privata? No, erano oltre 500 parlamentari, tra senatore e deputati, abbastanza gremita la sala, alle sette la mattina, alle sei già dovevamo stare lì, mi sembra una cosa bella di quello che si è trattato, anche dell'argomento appunto ha rivolto il Papa proprio su quelli che comandano un'attenzione particolare. C'è una tiratina d'orecchie a voi parlamentari. Bravo, bravo, c'è stata una tiratina d'orecchio a tutti, non solo a me, perché io comando poco, però specialmente a quelli, anche i ministri che erano lì presenti. Io immagino un'imitazione di Crozza che imita sia il Papa che a lei, che fa contemporaneamente il Papa e lei, sarebbe montata, sarebbe il massimo. Torniamo però all'argomento. Secondo lei, questa sua proposta di legge al Senato ha fatto discutere, ha fatto scalpore, nel senso che se ne è parlato molto, no, di quante possibilità ha di poter andare in porto? Penso che questa volta dovrebbe superare il 90% di possibilità che passa. Perché questo? Perché c'è una proposta anche da una senatrice del PD, c'è un'altra proposta da un'altra senatrice di Forza Italia e c'è la mia. Allora, io penso che adesso, visto che c'è anche il PD che sta al governo e noi che stiamo all'opposizione, si potrebbe unire le forze proprio per farlo passare. Visto che la Lega sta, la Lega è già da anni che è favorevole. Questa è una vecchia battaglia della Lega, infatti sono scesi in campo proprio Salvini e Maroni, cioè il governatore della Lombardia in questa raccolta di firme e Salvini che è il segretario della Lega. Però l'hanno subito ritenuto eccezionale, dice questo è quello che si deve fare. Però noi almeno non è stato depositato, non si è potuto nemmeno calendarizzare, andare alle commissioni di discutere, magari per vedere se si poteva fare qualche cambiamento. E così è stato fermo, oggi lo riteriamo e speriamo che veramente questo passa. Ma più che altro, ripeto, per salvaguardare le donne, perché le donne devono essere protette. Con questa proposta di legge sono protette innanzitutto le donne, che vengono rispettate. E' una cosa sacrosante che bisogna... Cosa prevede questa proposta di legge? Cioè l'apertura di... una volta si chiamavano bordelli, è una parola... No, io l'ho definito oasi della oasi, che è una cosa come... Cos'è sarebbe oasi del sesso? Oasi del sesso che va lì, che si rilassa. Perché questo? Perché dentro a queste strutture vengono fatte idromassaggi, saune, bagni turchi, insomma... Cioè un'oasi del benessere totale, possiamo definirlo. Un benessere va lì, sta due, tre ore, quattro ore, quando vuole stare... Beh, beate a chi ce l'ha due, tre ore per stare lì dentro. E poi c'è da mangiare, c'è da bere, insomma... Ma lì è un'oasi proprio di riposo. Ma è sulla stessa falsariga di quelle che sono in Svizzera? E' perfetto. Io, diciamo, ho copiato, ho copiato, per modo di dire, il sistema che c'è in Svizzera, ma che c'è in altre parti del mondo. Diciamo, un'oasi dove uno si va veramente a rilassare. E questo ovviamente con un controllo medico per le donne, che sono pagate, retribuite, in maniera... Cioè sono assunte praticamente. Sì, sono assunte come un operato. L'imprenditore pagherebbe, verserebbe loro i contributi, pagherebbe le tasse, la loro retribuzione sarebbe tassata. E questo per lo Stato sarebbe... Si parla tanto di lavoro in nero. Invece quello viene proprio alla luce del sole, pagano le tasse, versano all'Inps, in modo che anche quando arriva alla pensione, hanno anche loro la pensione. Mi sembra una cosa... Allora, quello dello sfruttamento della prostituzione è uno dei canali di approvvigionamento di denaro maggiori che la malavità. Secondo lei c'è la possibilità di qualche intervento malavitoso per non far votare questa legge? Perché ovviamente le organizzazioni criminali perderebbero gran parte dei loro introiti, no? Ma io penso che anche lì sicuramente si intrufuleranno, come si sol dire, anche dentro l'istituzione per non far passare questa legge. Ma è sbagliata, è sbagliata perché noi dobbiamo essere, chi sta al governo e chi sta all'opposizione, salvaguardare, non perché è una legge fatta da razzi o da un'altra parlamentare, ma è per, ripeto, sempre per salvaguardare tutti i cittadini, le donne innanzitutto e quelle che ci vanno, perché ci vanno tutti, nessuno è santo. E allora bisogna proteggerlo, ma proteggerlo, proteggerla e più che altro far guadagnare anche lo Stato per le tasse che pagano. Passare il lavoro più antico del mondo, mi sembra che sia una cosa, no? Visto che il lavoro è definito il lavoro più antico del mondo, sarebbe una cosa giusta? Mi sembra giusto, come dicevi prima, sono tutti soldi in nero che loro hanno avuto, sono tutti soldi che l'agenzia dell'entrata non sanno assolutamente di questi soldi e mi sembra una cosa giusta vedere proprio la filiera, anche loro, non solo la filiera nostra, di quando si guadagna e quando spendiamo, ma anche... Perché lo dicevamo prima, ci sono delle escort che guadagnano molto più dei parlamentari, ma siamo su livelli differenti. Sicuramente, perché mi diceva alcune, il loro guadagno superano i 200, 300, anche mezzo milione di euro, a secondo i clienti che hanno, perché ci sono quelli che addirittura prestazioni... Ma c'è chi chiede 5 mila euro per una notte, quindi... Ma infatti ci sono quelli che ce l'hanno e lo pagano e ci vanno, non è che non ci vanno. Però, ecco, ripeto, quei 5 mila euro nessuno lo sa che fine ha fatto o dove va. Invece i prezzi sarebbero più bassi con questa nuova legge e soprattutto sarebbe la portata di tutti e sarebbero tassate le cose. Poi c'è un lato morale che non voglio toccare in questo momento, no, perché l'aspetto morale c'è sempre. Poi adesso si arrabbieranno le femministe, la mercificazione del corpo, anche la Chiesa molto probabilmente dirà la sua, però è un dato di fatto questo. Dobbiamo prendere atto di una situazione che esiste. No, guarda, le femministe, almeno di quelli che conosco io, sono contenti di proteggere le donne o di proteggere le prostitute, perché mi sembra una cosa giusta. Loro sono anche donne, danno prestazioni di servizio, ma quelle prestazioni di servizio bisogna proteggerle. Bene, anche se hai visto tante volte ammazzato una donna, ma anche prostitute che vengono presi per strada, ci sono stati molti casi di violentate, ammazzate addirittura. Io penso che solo così si può proteggerlo. Tempi? Speriamo che subito viene calendarizzato, sicuramente ci sarà un voto favorevole anche da parte del PD e della Lega, sicuramente, visto che adesso siamo due di Forza Italia che ha proposto... Chi è l'altro? La Casellati, l'onorevole Casellati. Quindi, insomma, è una legge trasversale questa, no? La senatrice Casellati, scusa. È una legge trasversale che viene approvata da... Ma mi sembra sicuramente, perché una volta tante si fa qualcosa per le donne. E firmerà lei questo referendum per la Lega? Ma sicuramente, sicuramente, io figurati, sicuramente lo firmerò. State facendo un po' troppe cose col PD, mi sembra ultimamente, più del nuovo centrodestra, che succede? Ma no, ma se ci sono delle riforme per il bene comune, perché questa è una cosa per il bene comune, perché non è che nelle case chiuse ci va solo quelle del PDL, di Forza Italia, o quelle del PDL, o quelle del 5 Stelle, o quelle della Lega. Ci vanno tutti, cioè non è che lì devi presentare a che partito sei per entrare. Allora ci vanno tutti, visto che ci vanno tutti, dovrebbe essere tutti d'accordo una volta tante, perché è una legge, ripeto, che va a salvaguardare innanzitutto le donne. E la sicurezza anche per gli uomini che ci vanno. Anche perché, come disse qualcuno duemila anni fa, lo spirito è forte, ma la carne è debole. Grazie al senatore Antonio Ranzi, vedremo che fine farà questa proposta di riaprire le case chiuse. Grazie senatore, grazie a voi che ci avete scelto e seguito. Grazie a voi. Grazie a voi.